La simulazione dello stampaggio ad iniezione di Solidors Plastics consente di prevedere il flusso della massa plastica fusa durante il processo di stampaggio ad iniezione. Grazie alla possibilità di simulare il flusso della massa plastica, è possibile prevedere gli eventuali difetti di produzione. Solidors Plastics consente inoltre di prevedere la deformazione della parte e di ottimizzare il raffreddamento dello stampo. È possibile modificare la geometria della parte o dello stampo, le condizioni del processo o il materiale plastico in modo da eliminare o ridurre al minimo i potenziali difetti, risparmiando quindi energia, risorse naturali, tempo e denaro. Solidors Plastics è completamente integrato nell'ambiente Solidworks, rendendo facile ottenere un riscontro immediato su come le modifiche al progetto vadano ad influenzare la produttività dei pezzi. E l'interfaccia intuitiva rende facile per chiunque identificare ed affrontare eventuali difetti di produzione. Solidors Plastics viene fornito in tre diversi pacchetti, Plastics Standard per i progettisti di plastica, Plastics Professional per i progettisti di stampi e per i produttori di stampi e Plastics Premium. Per i progettisti di parte in plastica, Solidors Plastics Standard consente di ottimizzare le parti per la lavorabilità fin dalle prime fasi del progetto. Facile da imparare e da utilizzare, Solidworks Plastics Standard è completamente incorporato all'interno dell'ambiente Solidworks, in modo da poter analizzare e modificare i progetti allo stesso tempo, ottimizzando la loro funzionalità. Plastics Professional permette ai progettisti di analizzare la porzione di riempimento dello stampo ad iniezione. Con questo pacchetto è possibile creare mesh di superficie e mesh solide, analizzare il tempo di riempimento, rilevare riempimenti incompleti, linee di saldatura e trappole d'aria e utilizzare più punti di iniezione. Solidworks Plastics Professional offre a chiunque progetto costruisce stampi ad iniezione, un modo preciso e di facile utilizzo per la loro ottimizzazione. Plastics Premium consente di analizzare cavità multiple, di bilanciare i canali di colata, calcolare il tempo di raffreddamento, valutare il ritiro, introdurre inserti, analizzare le fibre e la b-rifrangenza. È possibile creare e analizzare rapidamente stampi sia a singola cavità che a multicavità ed analizzare le carote, i canali di colata e i punti di iniezione dello stampo, oltre naturalmente a tutto ciò che può fare Plastics Professional. È possibile anche bilanciare il sistema di canali e stimare il tempo di ciclo, consentendo di ottimizzare il processo del sistema di alimentazione e di evitare una costosa rilavorazione. Solidworks Plastics offre anche materie plastiche avanzate, che comprendono tutto ciò che è contenuto in Plastics Premium, oltre a funzionalità di simulazione avanzata, come l'analisi di deformazioni e di raffreddamento. In questo corso esamineremo le nozioni di base per l'utilizzo di Solidworks Plastics Professional. Come con tutti i prodotti Solidworks di simulazione, il processo di convalida delle materie plastiche comprende quattro fasi fondamentali, ossia creare la mesh, esaminare i problemi, eseguire l'analisi e analizzare i risultati. Durante il corso vedremo questi passaggi di base ripetuti ogni volta che viene convalidato un progetto. Qui ho una parte alla quale è già stata applicata una simulazione con Solidworks Plastics. Per vedere lo studio, innanzitutto abilito Solidworks Plastics. Per farlo vado in Opzioni, Aggiunte e seleziono Solidworks Plastics. Solidworks Plastics, come detto, è completamente integrato nell'ambiente Solidworks. Si può vedere che è stata aggiunta una scheda di Solidworks Plastics nel Command Manager, nonché un albero delle funzioni. Come per altri prodotti di simulazione, l'albero del gestore delle materie plastiche è la fonte principale di comunicazione tra l'interfaccia Solidworks e il software Plastics. Si può notare che molti degli stessi strumenti che si trovano nell'albero possono essere accessibili anche nel Command Manager. Oppure dal menu a discesa, andando in Strumenti, Solidworks Plastics. Inoltre, va notato che gli strumenti elencati nell'albero non possono essere modificati. Se esiste una funzione con cui si ha a che fare spesso e che non è disponibile qui, si può personalizzare il Command Manager di Plastics per includerla. Nella prossima lezione avremo modo di vedere meglio l'albero del Plastics Manager. Grazie a tutti.